Io velocemente vorrei farvi vedere qualche esempio di lavagne digitali sviluppate su questa piattaforma che accanto a Mirò è uno spazio classico e uso due notazioni di Graziano che c'è ancora forse. Le lavagne sui muri, tradizionalmente sulle superfici a muro, ma in digitale, sono tipicamente spazi artigianali e sono atti, come lui direbbe, politici, collettivi, ricorrenti per il pensiero visuale. Sono pratiche e idealmente noi tutti vorremmo, almeno io, che siano senza fine, siano un cielo comune e quindi siano spazi a 360 gradi e ospitano i canvas e soprattutto pratiche di design thinking, proprio anche qui sartoriale per co-creare. Qui vedete un po' di cose nostre, perché insomma lavoriamo in comune, alcune sono mie, altre di Laria, ma diciamo quasi tutte tendono alla sinsemia, cioè a quella pratica di cura quasi pre-rinascimentale delle relazioni di prossimità fra gli oggetti, fra le immagini, fra i contenuti e tendono a una restituzione appunto in forma di paesaggio di queste cose. Per cui, partendo da questo, dobbiamo dire che Mural è una piattaforma abbastanza comoda, soprattutto perché consente, come vi faccio vedere fra un attimo, con dei cruscotti laterali, di decidere delle inquadrature locali dove scrivere pezzi di reportistica. Anche perché i laboratori visuali e la reportistica, in conseguenza, vivono insieme un'intenzionalità che è comune, no? Ricostruire il senso e il valore delle cose co-create come interpretazione collettiva per vedere un futuro, per scrivere. E anche sono un luogo per dare peso alle parole. Io sono molto affezionato a Montale, come moltissimi che, lui diceva, tendono alla chiarità le cose oscure. Insomma, come i nostri di seppia, io penso che le pratiche di partecipazione possano tendere anche a bozze di letteratura istantanea. Ovviamente, non voglio dire che siamo sempre capaci di praticare letterature, ma le persone sicuramente sì. Questa è una tipica lavagna che ha, come vedete, gli outline laterali e questo esempio parla di un piccolo laboratorio, ma abbastanza importante per l'Università di Bari, fatto poco tempo fa, di condivisione per contribuire alla missione istituzionale della terza missione nel condividere intanto una SWOT, che sapete è uno strumento strategico per apprezzare forze, debolezze, minacce e opportunità, ma il tema era, in questo caso, trovare un momento di condivisione per comprendere quali competenze dovessero investire l'Università e ovviamente il personale, i docenti, gli studenti per fare questo. Quindi abbiamo fatto qua un incontro istantaneo di una giornata e qui vedete una cosa tipica che spesso si fa. Questo è molto artigianale in questo caso perché le persone parlano, quindi si riporta in tempo reale il cuore di ogni contenuto mentre si parla, fra poco lo farà l'intelligenza artificiale, ma qui è molto naturale, e poi basta, come dire, incastrare le parole qui sotto e che poi, vedete, è possibile sviluppare i discorsi corali. Se voi leggete questa roba, vi ritrovate che i discorsi diversi diventano sostanzialmente unità corale discorsiva. E questa è una pratica di ascolto che ha poco a che fare con le tecnologie. Questa seconda parte invece immediata del laboratorio è quella di aver tentato di gestire bene la variabile tempo. Il tempo è una cosa difficilissima da misurare e da mettere a disposizione le persone quando si compie una co-creazione, perché è poco disponibile e per questo è importante spesso integrare gli strumenti, perché non è più frequente che noi si possa vedere insieme e decidere insieme, invitare le persone a mettere insieme i contenuti mentre un laboratorio accade. Spesso è importante dargli degli strumenti paralleli per integrare oggetti e per rispondere. Quindi in questo caso c'era un laboratorio contemporaneo con un Google Form, in cui si chiedevano le competenze per alimentare il campo della SWOT. Per cui qui è stata proposta ai partecipanti, che erano tutti dipendenti della terza missione, di rispondere in tempo reale a un classico questionario in cui rilasciavano delle risposte aperte relative alle competenze dei vari campi della SWOT. Questa cosa qua consente, come sappiamo, di avere in tempo reale una tabella, un database delle risposte. E questo database delle risposte fa sì che sostanzialmente noi possiamo creare delle infografiche per apprezzare tutta la densità delle cose che arrivano. Una SWOT del genere però si deve costruire con una visione comune. Ci sono moltissimi termini spesso in un processo. In questo laboratorio, mentre le persone si incontravano e parlavano di questa cosa, interagivano con questa cosa qui, la funzione facilitatore è scrivere, trasferire queste risposte in tempo reale rispetto agli oggetti. Quindi qui il tema è che spesso è importante inventarsi delle infografiche che possano raccogliere, in questo caso è un sistema quasi tolemaico, di rappresentazione di fattori diversi, ma localizzare in un luogo comune, accessibile a tutti, perché queste lavagne sono accessibili in visione ai partecipanti. I partecipanti non interagiscono direttamente qui, ma lo fanno trasferendo contenuti attraverso dei moduli. Quindi con i moduli si trasferisce e si opera questo arricchimento e insieme a loro si precisano questi fattori da aggiungere nei vari contenuti. Quindi queste sfere che voi vedete sono appunto i contenuti che loro inserivano attraverso questi form, per cui è facile poi rappresentare molto agilmente e velocemente con questi sistemi di navigazione gli elementi di debolezza, le opportunità, le minacce e così via. Tutta questa roba si può anche trasformare in forme infografiche dove si possono rappresentare gli elementi, i cluster che vengono fuori, gli oggetti. Per cui il report di questo primo sviluppo che si ha in comunità è tutta una fase di preparazione e di costruzione infografica. Questi insiemi di connessioni poi appunto come vi dicevo attraverso la gestione di una tabella con infogramma che è un sistema che consente delle rappresentazioni vi dà in tempo reale i tessuti di relazione. Quindi sostanzialmente poi tutto questo è un database che viene messo a disposizione delle persone e che cresce per cui c'è un accompagnamento continuo dopo il laboratorio mentre si sviluppa la raccolta per aggiornare continuamente la lavagna che diventa un report sostanziale in continuità. Questo è il caso per esempio di un'operazione in cui bisogna riorganizzare contenuti per poi rielaborarli insieme. Io e Lari abbiamo fatto spesso un GOP che per la legge di Murphy non state ancora apprezzando ma in sostanza costruire per esempio una gerarchia di problemi è più agile se voi costruite un modulo per trasferire sulla lavagna questi contenuti. Ci sono per concludere anche strumenti di automazione di queste lavagne uno di questi è Zapier Mural ha come Miro tutto un sistema di integrazioni per cui potete effettivamente collegare a una lavagna Mural uno sheet, una tabella che alimenta automaticamente una zona della lavagna. Questo è il caso, vedete tutto questo blocco di oggetti, problemi che vengono alimentati in tempo reale dai partecipanti ogni volta che un partecipante inserisce il problema in un modulo dopodiché l'interazione laboratoriale è molto più agile perché insieme si costruiscono le gerarchie di problemi si riordina e in questo caso si ottiene un albero degli obiettivi ma questo fa parte delle nostre storie come dire di interazione e di facilitazione che sono tipiche e tradizionali.